Oddio Fermo, fermo, fermo. No! Ok ce l'abbiam fatto. Ma do, sembravamo dei... cioè... dei neopatentati che cercano di parcheggiare. Ok, 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 sei in aria? Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, io sono Skilt e siamo tornati oggi sul mio canale. Oggi andremo a tentare questa challenge che ho denominato High Five Challenge, in italiano batti il 5 challenge, oppure sfida batti il 5. Nelle statistiche del nostro profilo, se andate in fondo, troverete una sezione con scritto batti il 5 e resta sempre umile. Dando un colpo al vostro compagno dopo che lui ha fatto goal, otterrete una di queste due sfide. Se darete il colpo a terra o a una distanza bassa da terra, farete il resta sempre umile. Mentre se lo colpirete a una distanza abbastanza elevata, farete il batti il 5. È una sfida abbastanza complicata, qui ora state vedendo due replay in cui siamo riusciti a fare due batti il 5. Infatti ho due High Five nelle mie statistiche. E anche più di 100 resta sempre umile, perché quelli sono molto più semplici da fare per terra. In questo video con Borto tenteremo di fare un batti il 5, anche più di uno, speriamo di riuscirci. Useremo alcune tecniche, però comunque giocheremo in ranked per rendere tutto il più avvincente possibile. Quindi il primo obiettivo sarà vincere, poi dopo il goal proveremo a battere il 5 in aria. Buona visione a tutti! Non è la prima volta che registriamo questo video, quindi speriamo che questa sia la volta buona. Spero vi piaccia, vi ho già spiegato nella intro cosa faremo oggi, speriamo di riuscirci. Allora, come vi ho già detto, la difficoltà in più è che stiamo anche giocando in ranked. C'è comunque anche questo step in più, però per rendere tutto un po' più avvincente. E qui siamo con Borto, che vi ho già detto prima nella intro. Trovo tutti. Eccolo. E bene, proviamo. Ditemi se poi vi interessa anche un proseguimento per la serie Road to Diamond. Ok, GG. Se poi dovessimo far goal, proveremo a batterci il 5 a vicenda. Quelli che vi ho messo nella intro erano un paio che siamo riusciti a fare in passato. Spero vi siano piaciuti. Ok, ok. Comunque, a proposito, consigliatemi una mimetica o qualche modo per decorare la Komodo. Che per la Fennec ho la Fennec cacciatrice, che è abbastanza bella. Però dei consigli per la Komodo mi servirebbero. Bel passaggio, è finita sotto l'incrocio, non ci lamentiamo. Noi cercheremo di battere il 5 in aria. Per esempio lì ero in volo, poteva provare, ma anche comunque non è facile. Oppure, se proprio non dovessimo riuscire, metti caso che la macchina non si alza per l'esplosione e ti tiene schiacciato a terra. Si può fare anche il... resta sempre umile, che in pratica è il batti 5 dei poveri per terra. E se voi ci siete mai riusciti o ne avete... o volete provarci, comunque scrivetelo nei commenti. Come l'avete fatto, che tecnica avete usato, eccetera. Noi abbiamo notato che se uno dei due, quello che non fa gol, è in difesa, quindi proprio più o meno nella sua porta, un po' più avanti anche, l'esplosione non lo sposta e quindi può volare e cercare di prendere quello che è stato sparato via perché ha fatto gol. Tipo come se fosse la palla, quindi quella è la situazione migliore. Nelle ranked non è che stiamo a programmarla, in casuale si può anche provare. Nelle ranked... ok. Oh, gg. Calcolato, calcolato, signori. Gol, 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 voilà! Vai a terra, rimani a terra, rimani a terra, rimani a terra, non ce l'ho fatta. Per fortuna c'è la possibilità di salvare il replay, quei due che siamo riusciti a fare. In realtà forse un terzo l'abbiamo fatto, però mi sono dimenticato di salvare il replay. Vado io. Clap for skills. Cioè comunque l'obiettivo è farli mentre registriamo. Quei due lì... Peccato. In più. Sono per farvi capire di cosa stiamo parlando, bene. Tua? Ci sei? Bel tiro? Ok, e qua è... Non ho abbastanza boost. Non ti vedevo neanche. Deve capitarti anche che hai il boost. Sì, infatti, non devi avere usato boost. Guarda qua il replay, io sono volato su a caso ma tu hai già andato via. Perché ero vicino e mi hai bumpato via di brutto. Bisogna essere uno fortunati a essere nella posizione giusta al momento giusto, avere... Non ho boost, eh? Ok. Poi ho già registrato un video in cui ho... Come si può dire? Incastrato uno che voleva duplicarmi i crediti. Sono riuscito a incastrarlo. Poi scoprirete come è stato abbastanza divertente. Scoprirete tutto nel video che uscirà a breve. Va bene, va bene, l'hai tenuta? Non ci credo! Per pochissimo! Va bene, va bene. Vabbè, comunque è stata una bella partita, dai. Easy! Prima persa. C'era volta erano tutte le partite del cavo. Esatto, l'ultima volta che abbiamo provato a registrare il video uscivano anche delle partite, diciamo, un po' noiose. Uno non facevamo azioni né carine né niente. Proprio ping pong, si riassume con ping pong e nient'altro. Ok, questo qua vuole skillar tutti. Questo è strabravo a skillar. Oddio! Eccolo! Dobbiamo stare attenti. Ha un buon controllo palla. No, 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 no. Boost e taglio. Uff. Hai mai fatto il sole. Vabbè, vabbè, l'abbiamo tolta, l'importante è quello. No! No! Vai, 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 vai. Guarda, questa è la nostra fortuna, comunque potete capirlo da questi tiri che abbiamo fatto. Si riesce ad alzarla. Uh, che tiro! Battiamo il 5 dove sei? Sto andando in retromarcia. No! Sei passato via troppo veloce. Dopo per pubblico di YouTube vi faccio vedere, e anche Borto vi dirà, quanti batti il 5 e quanti resta sempre umile abbiamo. Nelle statistiche potete controllare anche voi. Io penso di averne di meno perché mi dimentico sempre di provare. Li stiamo bombardando. Oh! Sono buono! Dai, ti prego, palo, tira! Sì! Vai, Borto, Borto, Borto! Eh, sono finito... Eh, io ero di sotto Borto. Sono finito dalla parte opposta. Calculated. Guarda come si sono arrabbiati che gli abbiamo scritto calcolato prima. Uh! Oh, porca miseria, che parata, Borto! Bravo, bravo. Non mi ha dato parata! Ma niente, l'importante è che... All'indietro ho parato. Non ho boost, ho zero di boost. Le perdiamo però almeno, dai, non giochiamo male. Oddio. E sei dall'altra parte. Sarei mai arrivato senza boost, poi tra l'altro. Uh! Superato di poco. È già da un po' che sto raccogliendo crediti senza shoppar niente, solo con gli scambi. Quando sarò arrivato a una determinata cifra farò il video e vi spiegherò che tecnica ha usato. Che brutto rumore che ha la sua Octane. L'ha cambiato e ha messo un trattorino, ha messo il tagliaerba probabilmente. Tra i motori tagliaerba, cioè, avrà scelto quella. Ma lo senti? Sembra un tagliaerba. Io non sento niente. No, questo qua con il lock-in, quando ti passa vicino. Ok, partita a botto buono. Ho dovuto superare anche uno skilto selvatico in mezzo. Ci sta, eh. Ci ho provato, tiro in porta, niente però. Ah, codardo, cosa fai lì a parare? Lasciami tirare. Uh! Borto! Dove sei? Sono qua, sono qua. Ma dovremmo fare che quello che fa goal sta fermo e quello che non l'ha fatto... Io sto fermo adesso, vai te, così. Per poco, vedi? Adesso, se io mi fossi mosso non mi avresti beccato. Esatto. Sono stato proprio immovi. Chi fa goal deve lasciare il controller. Esatto. Così era, cioè, è come una palla, la palla che puoi prenderla al volo per tirare. Se hai il boost, ovviamente. Già così è una tecnica avanzata, potete usarla anche voi. Ringraziatemi dopo. È apposta a portarmi in mezzo. È calcolato, vedi? L'hai confuso. Easy! Sono qua, eh? Sei passato a sopra e a di sotto. 4 a 3, però. 19 secondi. Resisteremo? Votate nei commenti. 3, 2, 1 via le votazioni. Ok. GG! Sì, è andato in porta a casa. Alleluia. Alleluia. Easy. Ecco, tipo, ora io potrei battere il 5 e gliel'ho battuto. Però non abbiamo fatto goal. Però va bene. Comunque il concetto è questo. Questo non era il batti il 5, questo era il resta sempre umido. Che è il batti il 5, come ho detto prima, a terra. Se dovessimo essere a terra, comunque proviamo anche a fare questo. Nella partita ti dà dei punti. Tipo, se non sbaglio, il resta sempre umido ti dà 5 punti. Se riesci a un batti 5, metti tutti i coriandoli. Dai, ce la possiamo fare, porta. Puoi fare un bel cross? Lo fa lui. Ok, andiamo. No, ti ha fatto esplodere! Che colpo combinato abbiamo fatto, GG. Occhio. Ma! Ho parato io e ho tirato lui. Cos'è successo? Che succede? Abbiamo fatto una parata testa. E allora, sti qua sono bravi, ecco, devo dire. Ma non ci credo! Guarda, ho tirato due volte! Porco mundis! Ok, dove sei? Dove sei? Ecco, sti qua. No! Non ci credo era fatta! Era quello base, però comunque c'è, non ne stiamo facendo nessuno. O la bolca minaria non capivo niente. C'è proprio c'era la palla sopra di me. Dov'è la palla? Attraverso il fumo! Attraverso il fumo sono andato a caso, potevo far benissimo autogol. Sono lucky. No! Ma è dentro! È arrivato il momento. Borto afferma che si può recuperare. È winnable, è winnable. Vedremo, dry. Dry. Vedremo, dai. Crediamoci. Nonostante le stiamo perdendo, non stiamo giocando male. Spero che vi stiano piacendo questi game. Certo che con Interseller potevo farla decisamente migliore. Scioppone, ma dal tonico. Le ruote non c'entrano niente con la mimetica. Esatto. Lo stadio in cui schilto dal meglio di sé. Ok. Ambiguo. Ma no! Ma no! È illegale. Ok, Borto, Borto, Borto. Fermo, fermo, Borto. No, scherzavo. Devi venire te. Primo o poi dobbiamo riuscirci. Better to do this. Tenuta. Mi sa che sei neanche. Non la toccherò perché voglio battere. Allora, stai lontano? Fermo, fermo, fermo. No! Ok. Ce l'abbiamo fatta. Ma no, sembravamo dei... Cioè... Dei neopatentati che cercano di parcheggiare. Guarda, guarda lì, guarda lì. Che ne abbi. Ok, però loro sono più nabbi di noi, direi. È buona. È malaparte. Era anche un po' piano. Se riesci a cassare? Bravo. Ok, allora Borto. Sei da tutt'altra parte. No, qua non era fattibile questo perché è un Kv5. Sì, ma non c'è il tempo materiale di... Eh, esatto. Cross? Oh! Non ci credo. Eri già pronto a battere il 5. Io l'avevo appena bumpata. Devo uscire a prendere il bus. Se riesci a crossare. Ci provo. Porco, un po' forte. Borto, perché non l'hai presa? Borto. Cioè, che nabbo sei, scusa. Non prendi sti passaggi. Dove vuoi andare? Dai, su. Eh, rodo tu diamante. Per comune, l'ho tirata più forte dai tiri che faccio di solito. Non c'ho boost. C'è quello lì da 100. Eh, non riuscivo a prendere. Continuiamo a girare in turno. Ci sei? No, è per loro il passaggio. Per loro lì puoi skillarlo, volendo. E mi è partita via la palla. Ok, rimbalza sul toffitto e va bene. Eh? What? What? No, no. 3 a 2. Cheat, questi sono nabbi. Vai. Ok, ok, ok. Sei in aria? Sì, sì, ti ho toccato. Ti ho toccato. Ti ho toccato. Guardiamo il replay, ti prego. All'ultimo, Borto, all'ultimo. È andato nel video pure. No. 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 No, secondo me l'ho... Io ti ho toccato. Ti ho toccato. Ti ho toccato. Dobbiamo riguardare il replay del... Sì, ricordami. Manca il 16 secondi. Quale il replay della partita? Ce lo ricordiamo. Peccato. Ah! Ok. Era quello perfetto. È così che la cosa più facile è questa. Sì, che uno... Io ero qui indietro. Io quando c'è l'esplosione sono centrali davanti alla porta. Volo via alto. Esatto, io sono dietro e posso volare. Anche se in realtà ero storto, quindi ecco perché ho fatto un po' fatica. Forse... Forse... Forse vatti cinque. Forse cinque, esatto. Vediamolo. Dammi cinque due. Non me l'ha contato. Ero già due prima. Dove li vedete qui voi spettatori di YouTube. Io dammi cinque ne ho zero. Ah, ok. Hai zero dammi cinque e ti resta sempre umile. Quanti ne hai? Ventisette. Ventisette. Adesso vi dico i miei. Vediamo la mia. Ok. Play. Te sei andato. Hai fatto gol. Io sono andato in retromarcia un po' perché sapevo che... E... Prima di toccarsi si è fermato. Porca miseria. Un secondo prima. Dai, ci riproviamo. Resta sempre umile e centosette. La vado. Eh, ma perché te li facevi tipo... Sì, sì, io... Se vengono casuali un conto, sennò non sto a dire. Vabbè, io lo facevo. Perché tanto dopo il gol non hai niente da fare. Cioè, io... Piuttosto, cioè, di andare in giro a vuoto, cercavo di battere il cinque. Ne ho centosette di quelli a terra, quindi... Forse avrei potuto tirare. No! Ero dietro apposta. Che parata ha fatto sto qua, GG. Ok. Stava per uscire una roba fatta da... Che l'ho visto. Però c'è arrivato lo stesso. Vai. Bravo, bravo. Bello, bello, ottimo. Perfetto. Bel passaggio. Angolata. GG. Uno a uno. Ero a rotolare a tartaruga. Gliela fai passare sopra. Uh, tira. Ok. Eh, sei troppo sotto. Eh, niente. Non potevo arrivarci. Eh, sì. Sul soffitto. Uno, sei sul soffitto e sono andato nell'angolo... in basso della po... Cioè, del campo. Dritta addosso all'avversario. Ottimo. Dimmi, ti spawn al boost. Non spawn. Va bene. Finisce nella... Forse va in mezzo. Sì! Uh! Porto, porto, porto! Sì! No! Di quanto, ma... Vabbè, dai. I tentativi comunque ci stanno. Ci siamo qua. Eravamo lì. Cioè, eravamo... Guarda, di quanto? Abbiamo provato anche a drizzarci noi. Se raggiungiamo... Dicci un numero, Porto. Che bello. Dai, mille. No, dai. Facciamo 300 like, dai. 300? Ok. 300 like. Se raggiungiamo 300 like, proverò a farlo nuovamente. Magari anche con Ferlo, che è qui in vocale ora mutato. Magari facciamo anche delle partite in tre, perché forse... Magari scopriamo che è più semplice. Non lo so, dovremmo verificare. Comunque scrivete anche nei commenti se vi è piaciuto e tutto. Consigli e altro. Potremmo provare a farne un altro. GG, vinta anche questa. Spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Per questo video è tutto. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. È arrivato... È arrivato... Alla prossima. Un artista insieme a noi e ci vedremo. Un burro supposo si chiama. Ciao a tutti.